Montagna a lookout altitudine 2211 metri ai piedi delle rocce prospiciente Denver ad un'elevazione di 1.609 metri e pianure più a dest del Colorado. A 600 metri l'orizzonte si trova lontano 80 chilometri. Quello è Denver. Facendo una panoramica su un orizzonte di 480 chilometri sembra a livello o piano. Probabilmente penserete è semplicemente così grande che può solo sembrare piatto. Questo è il motivo per cui vado a fare i calcoli per voi e voglio prendere in considerazione ogni possibilità e voglio misurare quanto è a livello l'orizzonte con uno strumento che opportunamente si chiama livello. Primo, la scienza ci dice che la Terra ha una circonferenza di 40.075 chilometri con un raggio di 6.371 chilometri e che la teoria di Pitagora ci dà la quota della curvatura su una data a distanza. Così 160 chilometri di orizzonte dovrebbe darci una curvatura di oltre un chilometro. Oh no! Non amate la scienza? Dovrebbe esserci un abbassamento di 4-500 metri da ogni parte del livello. lo vedete? Temo che la vera strana magia è più simile al sortilegio o al controllo mentale. I milioni di ore sulla programmazione del globo, i film di fantascienza e le immagini false della NASA possono fare questo alle persone. Guardate più da vicino, vedete la curvatura? Non sarà più la stessa cosa. La verità è più paradossale della finzione. Sogni d'oro! Sogni d'oro! Ciao. A presto! Abbonati, insomma un attimo a Espa chi è l' pant боль da e appiekato d'oro. Buon presto! NuoENCE